Una delle domande, probabilmente la domanda per eccellenza che mi fanno su Instagram, su Facebook, anche qui su YouTube è Canna da trotaria da utilizzare quando si pescano trote big, trote grosse? Beh, oggi rispondiamo a quella domanda E' proprio così, una delle domande che ci fanno più spesso anche qui in negozi oltre che sui social è proprio Che canna dovrei comprare per pescare le trote di dimensioni importanti, però vogliamo fare della trotaria Oppure banalmente, sto facendo della trotaria ma dove pesco io ci sono trote da 5, 6, 8, 10 kg Poi qualcuno dovrà spiegarmi dove le è andate a pescare queste trote da 10 kg perché voglio venirci anch'io Perché comunque poi l'ho visto le foto di tanti di voi che parlate di trote da 10 kg Diciamo che la bilancia spesso e volentieri lascia un po' a desiderare come qualità, non dico altro Però comunque pescare a trotaria con attrezzature da trotaria specifiche per questa pesca Su trote di dimensioni generose, di trote che magari raggiungono sopra il kg di peso E magari sono anche ben pinnate E' qualcosa che esula, che va oltre quello per cui queste canne, queste attrezzature sono fatte Prima di andare avanti nel vedere anche le attrezzature che vi consiglio per fare questa pesca Però vi ricordo, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella Per non perdervi tutti i video che portiamo costantemente qui sul canale E magari seguitici anche su Instagram per non perdervi tutte le promozioni di novità Che arrivano ogni settimana e praticamente tutti i giorni qui in negozio Idealmente, pensiamo che le canne da trotaria sono fatte per, soprattutto le più leggere Per trote che al massimo stanno sui due etti, tre etti, ma diciamo anche mezzo chilo Ma trote comunque di allevamento e trote non più grandi La trotaria, come abbiamo sempre detto e come abbiamo detto anche nella nostra serie di tutorial Pillole di trotaria È appunto una pesca nata un po' per l'agonismo Un po' per pensare su queste trote di missione, trote di dimensioni comunque non esagerate Tuttavia però storicamente noi in Italia abbiamo una cultura anche del laghetto Se vogliamo con la big, la trota grossa Trote molto generose di dimensioni E appunto l'incontro tra queste trote gigantesche Spesso magari anche in laghi molto grandi Quindi che vanno ben oltre al tipico utilizzo Che se ne fa in un laghetto di trotaria Che invece dovrebbe essere un laghetto abbastanza piccolo E da qui anche l'utilizzo di queste attrezzature super leggere E dicevo, l'incontro tra queste trote giganti E le nostre esili attrezzature Con delle canette che pesano 50 grammi magari E hanno un fusto leggerissimo Può provocare diversi danni Ma non disperate Perché ci sono delle soluzioni Tanti, 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 tanti Mi chiedono sempre di avere delle canne specifiche da trotaria Per questa pesca Io cerco sempre di spiegarvi Ragazzi non potete usarmi magari una Dive appresso ST O una dive appresso limited Anche la più bella in assoluto Per pescare magari su queste tipologie di trote Perché rischiate di andare a romperla Capisco che è bello Magari combattere 20 minuti con una trota Però tutto sommato avere una canna In piega per 20 minuti Sotto le sfuriate di un pesce Di quella mole E magari pescare anche con dei fili super sottili Quindi far cantare anche il mulinello Stressare un po' tutto quello che è la mia attrezzatura Non fa sicuramente bene Né al pesce Perché comunque ricordiamolo La trotaria nasce come una filosofia Volta anche al catch and release Né soprattutto alla nostra attrezzatura E quindi al nostro portafoglio Quindi qual è il consiglio di massima Che vi posso dare Quando cercate una canna Per pescare in laghetto Appunto Per fare della trotaria su le big È sicuramente quella di Salire con le potenze Salire con la schiena delle vostre canne Guardare a delle canne Sì leggere come grammatura Ma che comunque possano portare E abbiano una schiena Che gli permetta di combattere Dei pesci più importanti Banalmente Tante canne per la pesca in torrente light Sono delle canne perfette Perché di fatto sono questo Delle canne Con praticamente la stessa azione parabolica Di quello che utilizziamo normalmente a trotaria Ma con quel filo di schiena in più Magari anche qualche grammo in più Come potenza Ma che ben si sposano Con delle trote così potenti E che comunque ci permette di lanciare Anche ondulanti leggeri Come quelli da sotto i due grammi ad esempio Infatti la prima canna Che vi consiglio È sicuramente la DeFi Silver Di 13 Fishing Perché come vi avevo fatto vedere Ad esempio nel Cosa cazzo compro Trota torrente La DeFi rimane una canna Molto apprezzata Molto interessante Ad un prezzo super economico Stiamo parlando di una canna Che esce al pubblico Intorno ai 50 euro di spesa Sono delle canne Già con il sughero Già belline Che si permette di utilizzare il trecciato Ci sono delle canne anche lunghe Sette piedi Se andiamo a pescare Ad esempio in laghetti Di dimensioni generose Su trote di dimensioni generose Non ci andiamo a focalizzare Su quelle che sono Le classiche regole Degli agonisti Della trotaria magari Non ci andiamo a focalizzare Sulla canna più corta Di sette piedi O cose di questo tipo Sforiamo Non ci interessa Stiamo andando a pescare Fuori gara In laghi Sicuramente Da trotaria E delle trote Che non sono da trotaria Nessuno ci obbliga A stare sotto i suoi piedi E dieci Possiamo andare tranquillamente A cercare anche delle canne Come questa qua in mano Da sette piedi O magari anche oltre Se guardiamo delle canne da light Quindi sicuramente La prima È la DeFi Silver Salendo Un po' di prezzo E andando in casa Magicraft Troviamo la Magicraft First Cast In questo caso Del modello Bass Fishing Che però Se voi guardate Anche qui Come riportato su Grezzo C'è scritto Bass Entra Out I modelli Da un quarto E da tre ottavi D'oncia Di fatto Sono perfetti Per questo tipo di utilizzo Soprattutto se andiamo Su queste trote Big Sono canne Da light Comunque In questo caso Sì hanno un po' di schiena Perché nascono Per la pesca Al bus light O comunque Alla trota Ma Sono delle canne Molto polivalenti Che possono andare bene E con 89 euro di spesa Comunque abbiamo Una canna Super accessibile Ad un prezzo Molto molto concorrenziale Poi Se ce ne saranno ancora Quando uscirà questo video Su tuttospinning.com Trovate la nostra offerta Con Le Bass Para Un quarto Da sei piedi e sei In super promozione Ne abbiamo ritirato Un piccolo stock E ne abbiamo ancora Qualcuno In magazzino A 49 euro e 99 Una canna Che prima usciva Intorno ai 100 euro di spesa Ad un prezzo Strepitoso E trovate appunto Se ce ne fossero ancora Su tuttospinning.com Passando in Diva Canne che possono fare Al caso nostro Sono ad esempio Le nuove Diva Wise Che abbiamo visto Recentemente In un video Canne molto corte Da torrente Forse un po' Troppo corte Per questo tipo di utilizzo Ma che ci possono aiutare A coprire Se magari peschiamo Torti grossi In laghetti Non eccessivamente grandi Oppure Le Frims Evolution Che già avevamo visto In qualche video E di cui le più leggere Ad esempio questa 612 ULF Da 1,85 2,8 grammi Ci può aiutare Tranquillamente A coprire Questo range di utilizzo Ci permette di lanciare Tranquillamente Degli ondolanti Da 2 grammi 2,5 grammi Anche a buona distanza Se la copiamo Con un bel mulinello Soprattutto con un buon Trecciato Non eccessivamente grande E ci permette Di combattere Comunque In tutta tranquillità Anche una trota Di dimensioni Ragguardevole Questa è anche un po' La pesca Appunto parlando di trote Di dimensioni interessanti Che faccio ad esempio L'estate Nei laghi alpini La pesca Che consiglio sempre Di fare Anche a chi viene in guida Con me Sui laghi alpini In estate Nei laghi alpini Si fa di fatto Una trotaria Volta a trote Magari Un po' più grandi Con ondulanti Che possono superare Anche i 3 grammi Di peso Certe volte Dipende sempre Dalla grandezza Del lago alpino E dalle trote Che ci si aspetta Di incontrare Ma questa tipologia Di canna È sicuramente Una canna Più polivalente Quindi Usciamo Stacchiamoci Un attimo Dal mondo Puramente E specificatamente Trotaria Entriamo Nel mondo light Parlando quindi Ad esempio Di favorite Magari Più che andare A guardare Le classiche Favorite arena Il modello In sughero Da trotaria Guardiamo magari Le favorite arena stream I modelli Sempre in sughero Da torrente Oppure Se proprio Vogliamo starci Per forza Nel mondo trotaria Vogliamo proprio Una canna Fatta per questo La canna Che mi sento Di consigliarvi È delle nuove Favorite arena Le 2023 La più potente Il modello Che si contraddistingue Per la colorazione Bronzo Qui nelle caratteristiche E con una lunghezza Di 6 piedi e 7 Che ci permette Di lanciare 4 premi in mezzo È comunque Una canna Molto specifica D'aria Ma è comunque Una canna Che già guarda Un po' oltre Sia come lunghezza Sia come potenza Rimaniamo sul concetto Di aria Ma Logico Una trotta di 10 kg Non è fatta Per quel tipo di trotta Però Ci permette Di combattere Delle trotte Magari Un po' più big Se proprio proprio Non ce la fate E volete per forza La canna Che abbia L'approvazione Trottare approved Sicuramente Questa potrebbe fare Al caso vostro E se poi invece Vi sentite Particolarmente Spendaccioni Perché vi piace Tanto fare Questa pesca E volete Magari Investirci Anche qualche Soldino in più Allora vi dico Ritorniamo a parlare Di canne da light E ovviamente Vi faccio vedere La black swan Di Se favorite Ovviamente Qui Sarà un po' A voi Capire La misura Che fa più Al caso vostro Magari Evitiamo I modelli Solid Perché Potrebbero Mal sposarsi Con L'utilizzo Di Certe Esche Magari Di ondulanti Abbastanza grandi Però Troviamo delle canne Anche lunghette Che ci permettono Di uscire parecchio E Sicuramente Quando abbiamo Su queste tipologie Di canne Comunque molto light Una bella trota Attaccata Eh ragazzi È tutta una bella goduria Onestamente Preferisco molto di più Avere una trota in canna Su una canna Del genere Una trota Di dimensioni Importanti Che averla magari Su Uno stuzzicadenti Da trotare Dove magari Mi piega Fino al manico E sento Di non avere Assolutamente Il controllo Su questa trota Torniamo Su una cifra Un po' Più Popolare Anche se Comunque Stiamo già parlando Di canne Di un certo livello E Parlando di canne Da light Guardiamo I modelli Più leggeri Ad esempio Delle Zodias Zodias È un modello Molto fast Personalmente Troppo fast Ma che Tanti agonisti Sia della trota torrente Che anche Della pesca light In generale Alla trota Piace moltissimo E Sono molto Amanti Di questa pesca Soprattutto Chi magari All'ondolante O al ruotante Classico Va ad intervallare Anche l'utilizzo Della gomma Perché tanti Non fanno Della trotaria Nuda E pura Ma vanno a fare Un po' Una pesca Mixed E Sui modelli Più leggeri Anche magari Sui modelli Super sensitive In alcuni casi Possiamo andare A farci Questa Trotaria Dedicata Alle big Indico sempre Appunto Le virgolette Perché è un po' Un enfemismo Parlare di trotaria Quando Parliamo di Trote Di queste dimensioni Sempre Dobbiamo sempre Ricordarlo Questa cosa Deve entrarvi In testa Per chi Non ne è convinto Quello Di cui vi sto parlando Oggi Non è trotaria Sto utilizzando Il termine trotaria In maniera Impropria E quindi Da questa cosa Capite anche Tutte le volte Che mi chiedete Questa cosa qua Quando io vi rispondo Vi cerco di convincere Che non dovete Guardare a quel tipo Di canne Perché è sbagliato E non mi interessa Se nella vostra vita O a vostro cugino Ha tirato fuori La trota Da 15 kg Con la cannetta Da trotaria Perché quelle cose lì Le abbiamo fatte tutti Ma quando poi Spaccate le canne Sono Uccelli Per diabetici Sul Se rimaniamo su Shimano E parliamo appunto Di canne da torrente Ovviamente Sapete Una delle mie preferite È la trotnati In questo caso Andremo a vedere Delle misure Le misure più leggere Tra l'altro Adesso Shimano Butterà fuori sul mercato Adesso non le abbiamo ancora Ma si spera Nei prossimi Mesi Di averci Anzi Nei prossimi settimane Di averle qui in negozio I modelli ancora più leggeri Delle trotnative Da torrente appunto Che possono fare tranquillamente Al caso nostro Sia appunto Per pescare in torrente Anche se Vogliamo una canna Un po' più valente Se in estate Ci piace fare questa pesca Che appunto Per andare a pescare In laghetto Magari in inverno Quando vogliamo pescare Appunto queste benedette Big Ultimo modello Che vi faccio vedere Che è sicuramente Un modello particolare Ma che può piacere a tanti È sicuramente Di St. Croix La Eikon Una canna Nata per Una pesca Medio-leggera Al perca Al walleye Quello che noi chiameremmo Volgarmente Perca Un parente lontano Del perca Appunto Ma che ha queste azioni Un po' morbidone Delle canne Abbastanza lunghe Che ben si sprestano Per chi magari Vuole pescare Su dei laghi Di dimensioni Abbastanza generose Magari con degli ondulanti Un po' fuori misura Rispetto ai classici Ondulanti d'aria Pensiamo magari Di roba da 5, 6, 8 grammi Ecco Con queste canne qua Non temiamo Di lanciare Questo tipo di artificiali Anche a grande distanza E che quindi Ci possono tornare Molto utile Poi appunto Abbiamo Tutta la schiena Di una canna Americana Di St. Croix Per combattere Questa tipologia di pesce E qui Stiamo parlando Già di canne Molto interessanti E anche da un prezzo Abbastanza Interessante Tutta questa Pappina di canne Tutta questa spiegazione Non era tanto Per farvi vedere Un po' Di canne Che abbiamo qui In negozio Ma più che altro Per darvi un po' L'idea Delle canne Che dovreste guardare Di quello che dovete Cercare di capire Cosa farete Con le vostre attrezzature Quando andate a pescare Se andate a pescare Su questa tipologia Di claghi Sono un po' Queste Le canne Che dovete guardare Più appunto Che quegli Stuzzicadenti Da trotare Se avete visto Oggi Gli stuzzicadenti Ne abbiamo tirati fuori Ben pochi E tuttavia Con la giusta attrezzatura Magari con il giusto attrezzato Riusciamo a lanciare A grande distanza Anche esche Abbastanza leggere O spoon Abbastanza leggeri Anche roba sotto Ai 2 grammi Magari Se avete dubbio O delle domande Magari scrivetecelo Nei commenti E fateci sapere La vostra Mi raccomando Non mi scrivete più A mio cugino Ha tirato fuori La trota da 5 kg Con La cannetta A mano Con la cannetta Super leggera Da light No Non lo voglio più sentire E vi prego Non scrivetemelo Nei commenti Scherzi a parte Se avete dubbi O delle domande Scriveteci Nei commenti E iscrivetevi Al canale youtube Per non perdervi Tutti i video Che pubblichiamo Tutte le settimane Qui su youtube Noi ci vediamo Prossimamente Con dei nuovi video Voi magari intanto Andate a pescare Le big E iscrivetevi